Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Fare attenzione sul tratto appenninico per nebbia a banchi segnalata tra Roncobilaccio e Aglio. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!